Benvenuto nel mio canale di cucina Oggi faremo una focaccia in padella senza lieto Veloce, morbida e buonissima Per primo setacciate 200 grammi di farina 00 Dopodiché aggiungete un pizzico di sale, un pizzico di zucchero, 110 grammi di acqua e due cucchiai di olio Cominciate a mescolare il tutto fino a che il composto non si staccherà facilmente dalla ciotola Continuate a lavorare l'impasto fino a che non risulterà morbido e omogeneo e si staccherà facilmente dal piano di lavoro L'impasto dovrà risultare elastico e morbido, proprio come nel video Dopodiché formate una pallina, lasciatelo riposare per una decina di minuti E poi prendete una padella antiaderente, una dimensione di 26-28 cm Ungetela con dell'olio Adegiateci sopra l'impasto e stendetelo con le mani Fatto questo, cospargete con del sale E con dei semi di papadero Cuocete la focaccina a fuoco medio per una quindicina di minuti Trascorso questo tempo la focaccina è cotta ed è pronta per essere gustata Provate questa ricetta e ditemi cosa ne pensate Se vi è piaciuto mettete un like e lasciatemi un commento in descrizione Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale di cucina E condividete i miei video Io vi aspetto alla mia prossima videoricetta Ciao ciao da Gianni